Due parole per ringraziare il più sentitamente possibile l'Università di Siena che per SkyTG24, ma per Sky più in generale è stato un partner formidabile sin dall'inizio della campagna. La campagna è un mare da salvare, Sky Ocean Rescue nella sua accezione più internazionale. All'inizio noi, avendo l'obiettivo di sensibilizzare i nostri clienti, provare a ispirarli a fare qualcosa di buono in un rapporto col mare che evidentemente si era rotto, avevamo bisogno di partire dalla verità e in momenti in cui esistono anche troppe verità soggettive, addirittura contro verità, non potevamo che partire da una verità scientifica. La verità scientifica l'abbiamo trovata in questo primo incontro proprio con Cristina Fosse e con Plastic Busters che per noi è stato un incontro che più fortunato non poteva essere, perché non solo ci ha dato l'occasione di raccontare una storia bella, una storia potente, la storia di qualcuno che stava facendo qualcosa di importante dal punto di vista scientifico proprio per mettere nero su bianco quale fosse il perimetro scientifico entro cui muoversi. Ma ci ha dato anche un orizzonte da cui rubare queste verità per costruire la nostra campagna di amare da salvare senza sbagliare, digerendo delle verità e riproporle poi ai nostri clienti nella maniera il più oggettiva possibile. È stato un percorso lungo, ormai sono oltre due anni e mezzo, per noi è stato molto importante avere un feedback intanto positivo nella nostra campagna, vedere che questi obiettivi di awareness come si dice di consapevolezza nel confronto dei nostri clienti c'è una nota di feedback anche superiore alle nostre attese. È stato bellissimo vedere che la campagna al Plastic Buster si è riuscita a costruirsi obiettivi sempre più ambiziosi e a rinsaldarsi e a farsi sempre più spessa se mi si passa il termine. Oggi non sono lì ma Sky sarà sempre a fianco all'Università di Siena che continua a ringraziare, saremo sempre lì fianco a fianco non solo per raccontare quello che il progetto porta avanti ma anche per continuare a rubacchiare queste verità che per noi sono veramente il punto di partenza e anche l'orizzonte. Grazie.